Prima consentono lo sfacelo e poi annunciano la riqualificazione. Dopo cinque anni di abbandono, il Campidoglio ha avviato la consultazione preliminare di mercato per il recupero e la gestione del Parco della Madonnetta. Vogliamo salvare questa importante realtà e restituirla alla città, dichiara l'assessore al patrimonio Valentina Vivarelli, con servizi adeguati rivolti a tutte le fasce sociali. Le fanno eco soddisfatti la Presidente e l'assessore all'ambiente del decimo municipio. Verranno raccolti pareri, suggerimenti, informazioni e soluzioni tecnico-gestionali finalizzate alla preparazione del bando di gara per l'affidamento, spiegano Giuliana Di Pillo ed Alessandro Ieva. Insomma, siamo ancora nella fase ricognitoria. Frontale l'attacco di sinistra italiana e il Parco è tornato nella totale disponibilità dell'amministrazione nel lontano 2015, fa presente Marco Possanzini. Per cinque anni sono rimasti con gli occhi chiusi e le mani in tasca, mentre incendi dolosi e scempi di ogni tipo hanno devastato le strutture. Ora, a pochi mesi dal voto, annunciano la manifestazione di interesse, dove oltretutto si inizia a parlare di variante urbanistica e di coniugare la sostenibilità ambientale con quella sociale ed economica. Tradotto significa la possibilità di versare altro cemento nell'area verde, sostiene Possanzini. Anche secondo Fratelli d'Italia si tratta dell'ennesimo spot elettorale. A quanto pare, commenta la consigliera municipale Maria Cristina Masi, siamo ancora nella fase di recepire pareri e proposte, che durerà fino al 2021 e questo ci sembra un modo per prendere tempo nel tentativo di far vedere che qualcosa si è fatto.